Segretario, lei parla di diritti, ma lei è quello che spende 300 euro per l'armocromia. Cosa risponde, segretario? Cosa risponde, segretario? Facciamo il giro della gente, ragazzi. Segretario! Qui qua, qui qua, qui qua! Segretario! Lei è quello che spende 300 euro per l'armocromia. Segretario! Che ne sa lei di diritti e di sofferenza? Se lei spende 300 euro per un'ora per stabilire quale vestiti mettere, risponda, segretario! Risponda, segretario! Risponda! E anche altre cose avevano promessi. L'avevi promesso. Forza, Risp. Per favore! E dica a quel signore di non spintere un po' di guarda lo andasse a fare a casa. segretaria, 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 volevo consegnarle un documento. Un attimo. Calma! Segretaria! Segretaria, volevo consegnarle un documento. non spingale! Alda, spostati, spostati, Alda, spostati! Non spingati, Alda! Mi sta spezzando le mani! Basta, basta! Basta, basta, basta! Basta! Cosa sto spingendo? Non mi metta le mani addosso! Non spingerei! Che spingerei? Non mi metta le mani addosso! Non si permettessero di mettere le mani addosso, si, hanno messo le mani addosso, non tu, lasciano stare, devi stare calmo, devi stare calmo, vai vai, e chi è che ti sta insuffendo, chi ti sta pensando, non ti conosco mai, chi ti conosce tu? E tu Valerio Papa non è che devi fare il bodicato, vai a fare il consigliere comunale, vai, ciao, ciao, vai a fare il consigliere comunale.